buongiorno e benvenuti nel mio primo blog sono un pochino scomoda sono ancora nel nel letto oggi è il mio compleanno siamo tutti in quarantena quindi ho deciso di rendere speciale il mio compleanno registrando un blog della giornata siamo delle poche attività che si possono fare in casa sicuramente non ci sarà una festa sicuramente non vi trovo amici parenti eccetera a parte che ho in casa lei già mi ha fatto gli auguri guardate qua poi ho deciso di rendere speciale questo marzo perché è iniziato male nel senso di famiglia di cuore diciamo e prosegue ancora peggio nel senso che siamo in quarantena e speravo che a questa data oggi 16 marzo sarebbe stato il collo sarebbe stato un pochino meglio spero che così mi riediate ma non credo e quindi avevo bisogno di renderlo speciale in qualche modo poi non non farò neanche una torta un pranzo speciale con i miei genitori perché abbiamo avuto un lutto vicino due giorni fa praticamente venuto a mancare il mio nonno e quindi non non si festeggerà neanche con un pranzo o una torta una torta l'unica cosa speciale che potevo fare è registrare la giornata quindi mi farete compagnia oggi ho deciso che mi trucco è una settimana e passa che non mi trucco bisogno di rendermi carina per il mio compleanno quindi iniziamo la giornata andiamoci a fare una buona colazione voglio il cappuccino con il cornetto e ci metto dentro il pan di stelle la crema pan di stelle non vedo l'ora andiamo e e Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Alla fine mi sa che un dolce per il compleanno esce Allora sono in camera, devo mettere a posto il disastro alle mie spalle Vorrei rifarmi il letto perché di solito lo rifaccio sempre il lunedì mattina Perché cambio tutta la biancheria e mi cambio anche il letto Anche se è il mio compleanno visto che sono a casa Farò anche dei servizi in casa Ovviamente ci sarà una seduta di skin care Uno ne ho bisogno, due mi rilassa e tre lo voglio fare Ora voglio mettermi un po' di musica attraverso Amazon Prime La stella sto mettendo, ora ve lo faccio vedere Ho fatto anche la recensione Che mi fu regalato a Natale a una mia amica Per far crescere e rinforzare le ciglia Ovviamente la mattina il prodotto, l'olio si è seccato Mi dà un pochino fastidio e mi tira nell'angolo interno Fa le classiche caccole E quindi ovviamente mi dà un po' fastidio Fa un po' che vado a lavare il viso Stiamo facendo e voglio mettere un po' di musica Vediamo un po' che cosa esce Vediamo se c'è qualche playlist buon compleanosa Da poter scegliere Allora accendiamo il pc C'è un cane che mi abbaia fuori C'è un vicino che sta suonando con il sax E arrivano il saggio ovviamente Ha suonato l'inno d'Italia Ha suonato Bella Ciao Che cosa ha suonato più? Questi due ho riconosciuto Comunque questa cosa di suonare Di cantare tutti insieme è veramente bellissima Anche qui dove abito io È una periferia Ci sono veramente quattro gatti in croce Eppure facciamo un bel bordello Vediamo chi mi fa gli auguristi sul telefono Messaggini Allora le ragazze di volley Oh Dani Un bacione Cuori 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 Grazie Quanto mi mancano le mie ragazze Quanto mi manca la palla a volo Non avete idea Sto impazzendo E il gruppo famiglia Ho chiesto ad amici e parenti Un momento La ragazze del volley A due amiche mie Mie cugini piccoli Alle 18.30 di fare un piccolo flash mob per me Ok aspettate un attimo che Bestiolina vuole uscire E di cantarmi Buon compleanno a te Tutti insieme alle 18.15 Puoi andare di là? Sì Chiudo se non fa corrente Allora Chissà come sarà questo vlog Giuro che è la prima volta che faccio una cosa del genere Non era una tipologia di video che mi interessava Quando iniziò a essere di moda Quindi ero sempre molto snobbata Non lo guardo nemmeno Non lo guardavo nemmeno Ora Mi accorgo Spesso e volentieri mi trovo a Ad ascoltarli Mi fanno tipo compagnia per Senti di pulizia No pomeriggi di utilità No però se devo pulire qualcosa Mi fanno compagnia Durante Quel periodo Ok C'ho internet che va lento C'ho un problema di radiofrequenza Con la fibra telecom Team Team in questo caso Mi va lentissima Cioè se io aggancio il computer Direttamente al modem Super veloce Super flash Eccetera Purtroppo quando invece sono staccata È di una lentezza disarmante Veramente Cioè stai caricando da 20 minuti Sto scherzando Un minuto Vabbè Ho pure chiamato Mi hanno detto Che loro fino alla bass Fino al modem Vedono tutto perfetto Come avevo detto anch'io Però purtroppo La radio E la frequenza radio Loro non la governano Nel senso che ce ne sono diverse Tu vai a scegliere quella più potente Per la tua linea E va bene così Io di solito la tengo in automatico Perché se la sceglie da sola Qual è quella più veloce Mi sta per addormentare Facendo prima Voglio farmi una bella skin care Ora siamo in bagno E dopo devo fare anche shampoo e doccia Che sono inguardabile Chiedo scusa per Questo spettacolo poco degnitoso Allora Come skin care Voglio fare quella profonda Nel senso che Mi farò una bella maschera Eccetera E quindi nulla Mi farete compagnia Eccetera 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, devo aspettare un attimo che la maschera si asciughi, questa è quella che dovrebbe asciugare in un minuto ma non si è mai asciugata in un minuto. Mi faccio il letto, nel frattempo ascolto un po' di musica, ovviamente devo tenervi off altrimenti vengo bannata, mi si bannano il video e ci vediamo dopo quando vado a togliere questo e continuo la skin care. Io nel frattempo mi rifaccio il letto. Ok, mi si è seccata la faccia, ora vado a risciacquare via tutto ovviamente, ma forse un pochettino sotto il naso è ancora da asciugare, ma va bene così, perché mi inizia a tirare e non la sopporto più. E niente, va a risciacquo via e proseguiamo la skin care. Ok, ora ridratiamo tutto con il mio olio prodigio della Nuxe, lo adoro. Mettiamo qualche goccina, insieme al contorno occhi. Lo uso praticamente per la qualunque, non so, cuticole, capelli, viso, dopo le maschere, corpo non tanto perché non soffro di pelle secca, però eventualmente sul corpo sarebbe straordinario. E' buonissimo, fu un regalo di mia sorella di qualche Natale fa, ma il regalo fu più gradito, come si sa dire. E a proposito di regali, dopo vi devo far vedere che regalone mi è arrivato ieri in anticipo rispetto al mio compleanno, perché ovviamente c'era una spedizione di mezzo, perché ovviamente i negozi sono chiusi. È stato un regalo. Mi ha fatto battere il cuore forte forte, poi vabbè per il significato, non so se, non credo che si riesca a vedere alle mie spalle. Dunque ve lo farò vedere dopo. Non sono così secca intorno al contorno occhi, però la capacità che ha questo olio è di penetrare all'interno della pelle e a ristabilire l'equilibrio di idratazione stupendo. Ora ne metto qualche goccia sulla mano e faccio il viso. Bastano queste. Comunque stavo pensando alla sfiga, tra virgolette sfiga, per la quarantena. Cioè veramente il mio compleanno è capitato a metà della quarantena generale italiana, praticamente del decreto dell'altra settimana. Mamma mia. Cioè se lo volevano fare apposta neanche ci riuscivano, come si dice. Vabbè. Ora vi faccio vedere il regalo che mi è arrivato ieri in anticipo. Prima mettiamo gli occhiali perché non ci vedo più, sono due ore che sono sveglia. Io ancora devo indossare i miei occhiali. Buongiorno mondo, sono ancora in pigiama. Ora mi vesto, mi metto la tuta. Ora vi faccio vedere il primo regalo. Ieri, dopo che abbiamo accompagnato il nonno nella sua ultima dimora, sono tornata a casa e ho trovato la busta Amazon. E dentro c'era... Rullo di tamburi... Tadà! La maglietta di Mila! Dio, mi è presa un colpo! Ah, non mi riesco a tirare su, aspettate! L'acqua. Ragazzi, è bellissima. Sembra veramente la maglietta di Mila. Poi il numero ovviamente 7, il numero di Mila, che poi è anche il mio numero quando gioco. È raro che negli anni... È capitato che negli anni ho cambiato il numero per esigenze di taglia, più che altro. Però quando ho potuto scegliere taglia e divisa e numero, ovviamente 7 forever. Anche perché sono schiacciatrice anch'io, anche se non di mano. È bellissima. Questa qua la indosso oggi. Anche se poi ovviamente starò in tuta, però la devo io tenere addosso. È troppo carina! Vi giuro, quando l'ho aperta ieri, avevo... Io... Cioè, sembravo una bambina. Sono in controluce. Sono sempre in controluce, perché di qua c'è la finestra e della il balcone. Mi dovrei mettere... Così? Sì, così sono le due fonti luminose qua e qua. Quando ho aperto il pacco ieri, mi è illuminato il volto. Veramente sembrava una bimba il giorno di Natale. È stato un regalo inaspettato e super gradito. Mi ha svoltato la giornata, devo essere sincera. Ero molto triste, non avevo dormito ovviamente bene per il nonno. E pensavo a tutto... E ha fatto... Mi sito perché sono mi stanco. È difficile fare i vlog e tenere la telecamera, non farla muovere, non stancarsi il braccio. Si deve essere allenati. Comunque pensavo, visto che abbiamo già perso la nonna, non c'è più nonna. Ora che è venuto a mancare anche il nonno, quel pezzo di quella famiglia, diciamo il capostipidi di quella famiglia, sono venuti a mancare. Inizierà un nuovo ciclo ed è difficile fare il passaggio, anche soltanto mentale. Cioè, sarà difficile... Già era difficile prima aprire quella porta di casa e non vederci più la nonna, non so, che preparava il sugo, o mi faceva la pizza, o ci facevamo una chiacchiera. Che era ancora più difficile aprire e non vedere neanche più il nonno, che era pronto a scendere con il cane. Il guinzaio, la pettorina, quando doveva mettere il cane diceva, metti la cravatta a dick. Ma non piaceva morire. Sarà tosta, sarà tosta. Ovviamente, ho un rimpianto fortissimo. Cioè, i miei nonni mi hanno avuto molto giovane come nipote. Sono arrivata a 36 anni, li ho persi entrambi e non gli ho regalato la gioia di diventare bisnonni. Mi dispiace veramente tantissimo. E' una delle... Diciamo... Non so neanche come dirlo. Non voglio dire che sono stata egoista, ho pensato solo a me, non ho pensato a farmi una famiglia. No, sono tutta una sequenza di fattori che mi hanno portato oggi a essere ancora figlia di famiglia, non avere la mia famiglia. E questo ovviamente di contro ha significato non dare ai miei genitori dei nipoti, ai miei nonni dei bisnipoti. Perché ho detto che sono la prima nipote, quindi... Nel ciclo naturale delle cose, alla mia età, a 36 anni, io avrei dovuto già regalare ai miei nonni e ai miei genitori questa gioia. Non è andata, ma mai dire mai, se eventualmente arriveranno cucciolini, i miei nonni li proteggeranno dall'assù. Perché io ci credo che loro mi guardano dall'assù e mi proteggono. E poi ecco ovviamente la mia famiglia tutta allargata. Ok, basta perché sono a metto a piangere. Ora mi devo cambiare, continuo a ascoltare un po' di musica, poi voglio mettere la mia maglietta e fare una foto per Instagram e per lo stato di Whatsapp. Perché ce sta, io ce sta. Ho cambiato idea. Visto che comunque sono in quarantena, ho ancora il viso non unto, bello idratato dall'olio di Nuxe. E ovviamente dopo mi devo fare shampoo e doccia, se vede. Mi voglio truccare oggi, quindi mi godo ancora. Allora, questo pezzo di mattinata sarà... Chiari sono? Ah, è l'1-20. Sì, mi godrò il pranzo con il pigiama. Io adoro. Ogni tanto, se poi mi ci hanno a costringere, voglio starmene col pigiama in panciole. E nulla, credo che cazzeggerò un pochettino online. Voglio vedere di sentire qualche amica. E poi ci sarà il pranzo. Non so cosa ha preparato. Mamma ha preparato pesce, quindi pranzo a base di pesce, poi vi farò vedere le portate. Voi considerate che ieri è stato anche il compito della mia mamma. Quindi noi festeggiamo con un giorno di cambio, di ritardo. Di solito, al mio compleanno, poi festeggiamo entrambi i compleanni. Oppure al suo compleanno e a mezzanotte del 15, quindi che va verso il 16, si festeggia il mio e il suo insieme. Purtroppo volevamo andare a cenna fuori o a pranzo fuori, ma... C'abbiamo l'apocalisse zombie e quindi niente. Ok. Ora mi godo questo pezzo di mattinata tra musica, video di YouTube, faccio qualche chiamata e nulla. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere il pranzo. Mamma è bravissima a cucinare. All'ultimo mi sono ricordata che non vi ho firmato il pranzo speciale. La mia mamma mi ha fatto un pranzo speciale a base di pesce con vino bianco. Quindi vi farò vedere semplicemente il dolce preparato. Andiamo a vedere in cucina il dolce che vi ha preparato mamma. Cioè, guardate qua che mi ha fatto la mia mamma. Yeeeh! Ma secondo me è buonissimissimo. Tiene un po' l'occhio con una fetta. Mamma chiede se volete una fetta, me la mangio tutta io. C'è un pezzo di cioccolato qua che me la mangio. Poi farò sapere con me. Secondo me è very good. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Lisa, tanti auguri a me. Buon compleanno! Buon compleanno! Amelini qua! Buon compleanno! Ok, pranzo finito. Ora mi sto preparando per andarmi a fare shampoo e doccia. Inizio a prendere le cremine e me le preparo sulla scrivania. Così dopo mi metto qui e mi posso incremare mentre guardo un po' di TV. Volevo fare uno scrub al corpo ma mi sa che me lo faccio alla prossima doccia. Perché non ho voglia di stare troppo sotto la doccia, sinceramente. Quindi... Andiamo a fare la doccia. Mentre mi stavo incremando i capelli praticamente si sono asciugati da soli. Ovviamente non andrò a fare una piega, tanto non posso uscire se non portare. Bestialina a passeggio. Ovviamente il cane si può e si deve scendere. Inizio a fare un segno». Come inizbo. Quiddettare inizio a vet alternativi. Voi continuiamo a trasferir. Un'applicazione a contribuire a fostasciВito. Puoi sentire. Lontagante a gestionare per farcali. Puoi sentire. Lontagante a chiaro. Deticamente che ho datoESSO. allora come ho detto anche se sono a casa ho deciso che mi voglio truccare per scendere il cane e poi voglio registrare dei video voglio approfittare sinceramente è parecchio che non registro dei video e quindi sempre per lo stesso principio rendiamo speciale questo compleanno mi mi voglio truccare anche bene quindi sono parte praticamente la base la base viso di catrice per tenere il più fondotinta visto che ci voglio arrivare a stasera sono le quattro stasera e quindi tutto metterò su allora stavo pensando già da qualche giorno visto che c'è questa emergenza e hanno bisogno di sangue di fare trasfusione di sangue c'è sempre una carenza importante di questi periodi nei periodi di accendere la luce perché secondo me non si dice niente volevo andarci sinceramente stamattina ma mi sono svegliata d'arte e quindi è saltato domani voglio andare voglio diventare donatrice di sangue quindi domani mi recherò all'ospedale qui quello vicino a casa mia quello di salerno il principale di salerno e chiederò di diventare donatrice di sangue credo che sia una cosa giusta se al momento non una persona si sente bene e se la sente perché comunque anche una questione di come sei tu come sei dentro se te la senti di affrontare questo percorso particolare che significa dare un pezzo di te a persone che ne hanno bisogno io credo che sia giusto doverlo affrontare e si sta finendo il fondo tinta e devo fare questa praticamente nel rimasto tanto così non riesco ovviamente a tirarlo su con la pompetta ma mi dispiace lasciarlo qua dentro e quindi vado avanti in questo modo ma credo che così possa abbastare fortunatamente in questo periodo o poche facciamo corna come si fa da noi o poche perfezioni quindi dico di brufoli eccetera probabilmente anche questa quarantena il fatto di non doverci truccare ci sta rendendo la pelle molto più depurata pulita senza imperfezioni che ovviamente mettendo tutti i giorni si trucca tutti i giorni fondotinta eccetera si la pelle si sporca si chiudono i pori eccetera probabilmente questa quarantena e questo questo strucco no non si può dire questo no make up detox da make up obbligatorio fa sempre bene ci sta facendo bene sta finendo questo correttore di catrice ed è un peccato so ok sto per scendere il mio cagnolino eccola qua io abito in un quartiere periferico quindi non incontrerò nessuno e quindi non metterò la mascherina mi sono affacciata al balcone non c'è praticamente nessuno nel raggio di un chilometro ovviamente sono in tuta ma sono super truccata ci piace questa cosa, ci piace devo ancora mettere le scarpe e nulla noi andiamo a passeggio patatina vogliamo andare a fare la piglia chi si è messi a seduti? brude il nasino fa vedere questo nasino com'è brude questo nasino? fammi vedere grattiamo sopra il nasino andiamo a passeggio amore e andiamo mettiamo il guinzaglino dov'è il guinzaglino di scimmietta? oh mio dio la mia codina tanto carina andiamo come si bella siamo italiani italiani paesi andiamo dall'altro lato allora abbiamo fatto anche il flash mob mob mi hanno inviato dei video amici e parenti per il compleanno per i tanti auguri non credo che posterò metterò qualcosa nell'interno del video perché ovviamente non ho chiesto l'autorizzazione non ho fatto firmare l'autorizzazione a farlo ora ho messo la maglietta delle 7 e voglio fare una fotografia per metterla online su instagram e vabbè anche sul mio stato di whatsapp però prima devo mettere il rossetto che non ho messo prima che andavo di fretta ovviamente lo metterò arancione visto che ho messo un po' di arancione sugli occhi oggi e poi dopo vorrei registrare qualche video per youtube ho un pochino di tempo ok ci sentiamo dopo ok ho preso il mio quadernino voglio registrare delle recente video recensioni quindi ora prenderò il materiale che mi serve da recensire e ve lo porto sulla scrivania ho fatto un po' tardi tra una cosa e l'altra però va bene lo stesso quindi ora stacco qui e poi credo che riprenderò dopo cena per far vedere la mia serata wow per il compleanno ok cena finita ora credo di prima andarmi a struccare e togliermi le lentine dopodiché vorrei sistemare i file video dei quattro video che ho registrato prima e i relativi file file word di testo praticamente così poi posso mettere a posto quelle cose là dietro aggiornare il mio quadernino degli appunti ovviamente togliendo i prodotti dependendo i prodotti che ho già recensito e dopo non so se vedere se fa qualcosa di carino in tv o pre-accendere prime video ora vedo boh non so che cosa fa stasera comunque vi tengo aggiornate comunque sono così contenta di questo sinceramente nel in questa giornata brutta veramente brutta in queste giornate brutte per tutta l'Italia ero disperata di non poter festeggiare con gli amici i parenti eccetera questo compleanno comunque sono 36 anni non è che dici vabbè ne fai 18 e quindi ti disperi perché non festeggi il diciottesimo è comunque un dato importante io credo che sempre in qualsiasi momento della propria vita bisogna festeggiare gli anni che passano perché siamo ancora qui siamo ancora forti siamo ancora pronti a vivere e a combattere quindi si deve sempre festeggiare io sono di questa opinione qualsiasi occasione buona per dire sì ci sono eccomi qua e secondo me con questo video questo è il messaggio che vorrei lanciare ci sono ci siamo lottiamo e ad avassanottata antata come dicono a Napoli quindi ok proseguiamo questa serata allora non una stranezza perché me lo ricordavo ma sono in live con Federica praticamente la live che aveva fatto al posto della sua festa le avevo scritto che forse un pochino troppo alta scusami Fedi ok che avrei fatto per il mio cumpleanno un vlog dell'intera giornata e lei disse che era stata una bella idea quindi ora è nel mio video le sto per scrivere un anno un messaggino per dirle questo ciao non so se ti ricordi ma oggi è il mio compleanno no forse no trentaseisimo compleanno e sto registrando il vlog il vlog uno due tre sei nel mio vlog lette talmente nel mio video ok ho sistemato i file dei video registrati prima mi iniziano a bruciare gli occhi quando sto troppo tempo al pc specialmente in orario serale dopo un po' vanno a fuoco gli occhi ora ho deciso che mi apro il lettozzo mi sistemo i miei cuscini come piacciono a me e accendo prime sono indecisa se far se vedermi un film però sono già alle 11 meno un quarto non vorrei fare tardi perché domani se va tutto bene voglio diventare donatrice di sangue oppure vedermi due barra tre puntate di supernatural potrebbe essere una degna conclusione di questa giornata almeno avere due bellocce a fine serata nel letto con me comunque insieme ai ragazzi la vedete ma voi la vedete ma si vede sì che si vede ma guardatela 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 come fa la nina quella patatina di mamma le tizze è girata ma così si fa la nina con questo vangione tutto su amore e ora chi ti porta al passeggio papino andiamo a vedere se papino non sta lavorando ti porta papino se no ti ci porto io un'altra volta poi vediamo apriamo prima il lettino maio quindi nulla mentre apriamo il letto continuo a vedere Federica nella live e stavo dicendo farò il queste due o tre puntate di Supernatural quindi sarò a letto con due bei maschioni mentre mi credo che mi prenderò per una bella tisanina e skin care serale e poi nanna comunque ci sentiamo dopo la riaccendo la videocamera questa ve la racconto mi ero preparata il letto mi ero presa la tisana ve la faccio vedere preparata la tisana creme viso occhi labbra rullo di giada e prodotti per le mani sistemato i cuscini in modo comodo per poter facciamo un giro all'arco non inquadriamo vedere Supernatural sul pc vado in bagno mi rigiro vado in bagno non guardate rientro in camera si è piazzata al mio posto Amelie patata tu quello e ora chi ha il coraggio di toglierla d'acqua amore stellina mia no ti sposto mi devo vedere Supernatural scusate parlo di poco pure dolcissima tipina ma quel nasino bello bello la mia zampetta allora parlo a bassa voce spero che mi sentiate è tardissimo ho visto tre puntate di Supernatural e ho fatto leggermente tardi domani mi voglio svegliare ho messo solo a svegliare le 8 per andare a fare il prelievo per andare a fare la donazione quindi ora chiudo tutto e me ne vado a dormire il letto è praticamente pronto non so se si riesce a vedere sì, c'è anche Scignetella che già sta dormendo nulla, io ti ringrazio per avermi fatto compagnia e aver reso il mio compleanno in quarantena un compleanno speciale ripeto, spero che mi sentiate credo di sì se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere un palice in su se non vuoi perdere i miei prossimi video c'è il tastino dell'iscrizione di nuovo, grazie mille per la giornata e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze, ciao ragazzi in gamma buonanotte grazie mille per la giornata